e da lì è cambiato tutto siamo diventati esploratori avventurieri soprattutto ladri cerca di stare fermo per un po' era come se entrassimo e uscissimo di galera attorno se non eravamo dentro insieme quando l'ho perso quando creduto di averlo perso non hai più voluto parlare di lui qualcosa del genere è tutto ora sei tutto con te dubito che si possa sapere tutto ma è già tanto vorrei sapere a che pensi penso che tu sia fortunato perché ti ho trovato appena in tempo già e per fortuna non hai perso una gamba o altro sarebbe stato un bel problema portarti via da qui a proposito come mi hai trovato è stato facile ho seguito il rumore dei proiettili no come sei arrivata fin qua giù certo mi senti sally ehi zucchero lui come sta ah sai un po ammaccato ma è ancora vivo ordinare amministrazione ora non ci resta che salvare l'altro rake che vuoi dire te lo spiega nate vecchio mio è bello averti qui non potevo mancare che è successo se rai flappreso merda sai dove sono sì sono diretti alla punta nord dell'isola cerco un posto in cui atterrare da quelle parti una volta liberato sam dovremo andarcene in fretta ricevuto ehi e il tesoro scordatelo non ci serve ma alcazar non esiste nessuno alcazar sono tutte cazzate cioè quindi il debito e e la fuga si sam si è inventato tutto che stronzo vero senti ti spiegherò tutto appena saremo insieme ok si non vedo l'ora ah e state attenti laggiù ci conosci fai a cambio grazie di niente no intanto grazie che mi hai salvato di nuovo ho rischiato di non farcela andiamo ho trovato un veicolo siamo diretti al versante settentrionale dell'isola si new devon è la patria dei fondatori di libertaria ed è dove rai fa sta portando tuo fratello il tesoro probabilmente è lì possiamo prima salvare se guarda lassù l'ho presa in prestito dai tuoi amici della shoreline sei scesa fino a qui da lassù così ti ho raggiunto più in fretta ora dobbiamo solo trovare il modo di risalire nate mi daresti una spinta sì vieni è molto che sei qui sull'isola da qualche ora hai visto la colonna sì da là incredibile no mi sarebbe piaciuto visitarla ma ero un po' più impegnata a cercare di farci giusta dimmi sally ti ha spiegato perché siamo qui sì Henry Avery Henry Avery 400 milioni 12 fondatori centinaia di coloni una cosa del genere sì lei è riassunta bene avevo tanco durante il corso wow questo è un ascensore sembra di sì Avery deve avere assunti i migliori ingegneri della sua epoca forse lo usava per trasportare le scorte sul fiume sì è vero simile No, no. Nate, guarda, c'è un passato in alto. Ecco l'auto. Dobbiamo capire come arrivarci. Beh, adesso? Da che parte? Diamo un'occhiata. No, no. 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 Ma troppo in alto. Cerchiamo un'altra strada. Deve esserci qualcosa qui intorno. Ecco, potrei tirarti su qui. Credi ci sia un altro modo per salire? Ehi, c'è un passato. C'è un passato. Prova qualcosa di utile. Ho trovato qualcosa. Ho trovato qualcosa. Aspetta. Vai, attenzione, là più. è un passato. È un passato. È un passato. No, non funziona. No. Non funziona. è un passato. Non funziona. è un passato. Acquick. Aspetta. Ehi, bel salto! Niente male! E puoi far incazzare una donna del genere. Idiota. Dai, ti aspetto più avanti. Sto bene! Più o meno. È tutto sotto controllo. Vedi se riesci ad arrivare quassù? Sì. Sì, d'accordo. Di qua. Nate, riesci a trovare un passaggio? Sembra un piccolo cieco. E se l'ascensore funzionasse ancora? Ne dubito. Ha 300 anni. È rimasto alle intemperie. Forse non ha mai... Passo! Guarda, inizia una. Sì. Il prossimo piano... Il fatto che funzioni è... Davvero incredibile. Eh, ce la siamo chiamando. D'accordo. Allora... ci vediamo in cima. Ci vediamo in cima. Ci vediamo in cima. No! 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 No, no! Eh, hai una sigaretta? Sì! Briggiamolo! Merda! Oggi a persi voi! Non riesco sai! Ben fatto, piccola! Niente di che! Allora, da che parte è ella? Sarebbe più facile individuarla dall'alto. Giusto, buona idea. Il meccanismo è alimentato dal molino ad acqua laggiù. È piuttosto ingegnoso per una banda di pirati. Avresti dovuto vedere cos'hanno costruito in Scozia. C'era questo... Aspetta, sei stato anche in Scozia? Sì, sì. Vedi, l'ultimo posto in cui è stato Avery era... Rilassati. Sally mi ha già raccontato lui. Ah, giusto. Beh, almeno così ci teniamo in forma, giusto? Non c'è nessuno qui! Guarda, asciugla. L'abbiamo trovata però! Hanno trovato la tua auto. Tecnicamente è la loro auto. Beh, riprendiamocela. Credi che sia con Drake? Sì. Vi divertiremo. Vedete gli occhi aperti. Sì. 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 Signale, fortunato! No! No! Non, non, non! Ascensione! Non! Non, non, non! 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 Grazie a tutti. 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 Li troveremo. Vetteli K.O. Vetteli K.O. Non li vedo! Controllate ogni angolo e ogni fessura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vale la pena provare. Grazie a tutti. Niente lì. Niente lì. Controllo quest'area. Controllo quest'area. Grazie a tutti. 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 Andiamo. Vedi un'uscita? Su per il fiume. Grazie a tutti. 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 Allora tutto ok, continuo a seguire la sua rete. Scommetto scriveresti un gran pezzo su questo. Sì, potrei, ma non ci crederebbe. Non potresti fare delle foto. Non ho portato la macchina. Non vorrei averlo fatto. Perché pensi che Sam sia venuto direttamente da te? Raito ha fatto uscire di prigione. Credo volessero cogliere tutti gli indizi su Avery prima di lasciare Raito. Inoltre, doveva ancora mettere insieme con la storia di Akazawa. Sessore, che si può fare. È un aggeggio proprio strano. È abbastanza grande da contenere l'auto. Speriamo proprio che funzioni. Bene, diamo un'occhiata. Speriamo. Speriamo! Speriamo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 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 Elena, sei ancora con me? 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 Vedo cosa riesco a fare. Oh, ma'am! Sei ripartito! Tieni duro! Ora mi arrampico e ti copro! No, 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 no! No, 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 no! Oh, merda! Oh, merda! Oh, merda! Oh, merda! Oh, merda! Oh, merda! Porca puttana! Tutto ok, Nate? Sì. Allora, brigati! Guida tu. Sicura? Mi sembra che tu te la stia cavando. Scusami tanto, ma ora mi serve una pausa. Beh, te la sei meritata. Stavo proprio pensando. Tutti questi macchinari e strutture costeranno un occhio. Credi sia rimasto qualche tesoro? Avevamo già pensato. Avevamo già pensato. Ecco l'ascensore. Già, dovremmo attraversare queste rapide. Ci sono i salvagente nell'auto. E allora buttiamoci. E ti fate? Ora ci siamo. Ho di nuovo il controllo. Ci siamo quasi. Non è che per caso hai portato un camion, vero? Certo. E sulla aerea? Meno bene. Quella diga. Possiamo guidare oltre la chiusa. Possiamo guidare oltre la chiusa. there commento è un recuo. Non ci siamo sotto la chiusa. Il che es. Per commonlyo sembra. Grazie a tutti. 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 Guarda qui. Aspetta! Ce l'abbiamo fatta! Sembri sorpresa. Aspetta! Eccoci qua Chance che l'ascensore funzioni? Beh, percorso netto finora Quindi ora dobbiamo aspettarci qualche disastro La ruota sta girando bene, no? Ehi, mi aiuteresti? Oh, merda! Tengo io, tu sposta l'auto Ok, speriamo bene Tre su tre L'ingegneria pirata è fantastica Wow Sembra una cartolina Sì, Libertalia Vieni per i bei panorami E resti per le sparatorie mortali Cosa ti ha fatto cambiare idea? Hai detto che stavi per non tornare? Non potevo partire proprio quando eri nei qualchi nel collo E poi, sai, c'è quella cosa del voto nuziale Gioia e dolore Esatto In gioia e dolore Vieni Dammi una mano qui Ok Bene Ok, anche se lo fai con l'intento di proteggermi Non hai il diritto di tenerti la scuola Qualunque sia il problema Tu dovresti venire da me Così lo risolviamo insieme Come una squadra Sì, lo so Dico davvero È che Io, io Senti Dovremmo concentrarci Riprenderemo il discorso Prossima fermata New Devil Sì, lo so Sì, lo so È che Sì, lo so Ehi! Elena! Ehi! Ti riceviamo, Santi. Dove sei? Ancora in volo. Ho visto diversi veicoli della Chorland diretti a nord. Quindi li incontreremo presto? Voi due, state bene? Abbiamo avuto qualche intoppo, ma... niente di serio. Bene. Tenetemi aggiornati, ok? Non sono il tipo da nessuna nuova buona nuova. Faremo il possibile. Passo e chiuderemo. Ok, forse è dall'altra parte del pote. Leggiti forte! Nate? Oh, cazzo! Non è indietro! Andiamo verso le cascate! Non posso! La corretta è troppo forte! Nate? Tieni di posto! È fretta! Nate, guarda! Possiamo scalare i panerazzi! Presto! Vieni via! Che sono? Qua! È una cascata! È una cascata! Oh! È un'altra È essa! Ah! È stata bell'avere un'auto! Già Parta Non cercavo di proteggerti È solo che avevo fatto la promessa di smettere con questa vita L'ho fatta anch'io Sì, ma io l'ho infranta Non te l'ho detto perché avevo paura Paura di cosa? Di perderti Forse stavo... Proteggendo me stesso Capisci? Abbiamo ancora molta strada da fare Sì Dovremmo andare Già Di qua Almeno siamo sulla riva giusta del fiume Già Sarebbe stato un problema C'è una groca Evere si è scelto proprio una bella isola Magari potremmo tornare qui in vacanza, no? Sì, perché no? Sì, scherzo Ah! Ah, sei qui tutto solo? Povero pirata, riposa in pace, amico. Oh, cavolo. A giudicare dai vestiti sono coloni. Sembrerebbe una battaglia. No, non credo. Guarda come sono disposti. Sì, hai ragione. Sono impilati, ammassati contro le pareti. Erano già morti quando li hanno portati qui. Questa è una fossa comune. Ciao. E questo chi è? Eh, guarda il cartello. Traditore. È uno dei ribelli. Brutto modo per morire. Questa è un altro. ... ... ... Scusa, M.E.C.O.P. Senza il figlio. Il figlio. Il figlio.